La combinazione legno e colore è la genialità del nostro brand e quello è un'ulteriore proposta di fashion sulla moda. Il legno è certificato FSC che è un'organizzazione mondiale che certifica che il legno proviene da piantagioni well managed quindi quando tagli un albero fanno ricrescere, danno il tempo alla foresta di ricrescere. La finitura è un olio naturale, anche quello totalmente naturale, l'imballo è creato con carta che proviene da cellulosa anche quella certificata FSC e il sacchettino di contenimento è cotone organico quindi il pacchetto totale è 100% eco-friendly. Noi proponiamo un occhiale naturale in legno e quindi va da sé che l'occhiale naturale deve avere grande attenzione verso la natura, verso il creato e verso la materia prima che ci permette di creare questo oggetto.